Buon Natale a tutti! Visto che siamo tutti indaffarati con il pranzo di Natale, oggi abbiamo pensato a raccontarvi MyCookingBox. MyCookingBox è una start-up italiana innovativa che vende delle box contenenti tutti gli ingredienti dosati per ricreare una ricetta famosa italiana territoriale. Per esempio per la Liguria ci sono ovviamente le trofie al pesto. Dove si può trovare questa box? Si può trovare online sul loro sito, su Amazon, ma anche negli aeroporti, alla Mondadori e in altri negozi specializzati. Per chi vuole provare solamente per la prima box hanno sul loro sito lo sconto del 20%. Noi abbiamo intervistato la fondatrice Chiara Rota e lasceremo il link per approfondimento nel post.